Indubbiamente la produzione e la qualità del Montepulciano sono importanti, ma chiaramente il vino ha bisogno anche di altro. In Abruzzo abbiamo delle sottozune importanti, stanno nascendo dei vini importanti come il Pecorino, la Cococciola e senza dimenticare ciò che il Cerasuolo oggi rappresenta. Sta diventando una nostra punta di forza, peraltro sta conquistando mercati come quelli orientali sicuramente importanti, ma soprattutto vogliamo far capire che il nostro Cerasuolo non è un miscuglio tra il vino bianco e il vino rosso come qualcuno può pensare, ma che ha una produzione propria e una produzione di alta qualità. Sessore, in questo periodo di recessione che sta vivendo un po' tutto il mondo, ma anche l'Italia e quindi anche la nostra regione, il settore della viticoltura può essere una risposta, una via d'uscita? Noi ci puntiamo tantissimo, gli ultimi dati che abbiamo a disposizione sicuramente danno un segno fortemente positivo, noi riteniamo che ci siano le possibilità di continuare su questo trend, anche perché il nostro prodotto rapporto qualità-prezzo è sicuramente impattibile, non solo nei confronti dei prodotti italiani, ma anche nei confronti degli altri produttori. Grazie a tutti.